L'attuale assessore all'ambiente della regione Abruzzo ed ex sindaco di Caramanico Mario Mazzocca e il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri sono indagati assieme a Gaetano Monaco e Domenico Ludovico rispettivamente direttore generale e responsabile del settore esecutivo della Soget nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Pescara sulle multe e le bollette non pagate alla società di riscossione dei tributi. Abuso d'ufficio continuato in concorso, falso ideologico, truffa, tentato, delitto, errore determinato da altrui inganno e per Mazzocca e Monaco anche corruzione questi i reati contestati a vario titolo dai PM Gennaro Varone, Annarita Mantini e Mirvana Di Serio che inoltre hanno chiesto al GIP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco la misura cautelare della sospensione dal servizio per i due dirigenti della Soget misura che sarà valutata dal giudice per le indagini preliminari lunedì 13 luglio alle 9.30 nel corso dell'interrogatorio dei dirigenti secondo l'accusa Monaco e Ludovico d'accordo tra loro per mere ragioni di favoritismo verso il Mazzocca che li avrebbe comunque istigati e secondo prassi per la quale i debitori aventi incarichi politici venivano tenuti indenni da procedure esecutive avrebbero cancellato l'ipoteca su un immobile di proprietà dell'allora sindaco di Caramanico per un debito verso l'ACA società aquedottistica di 22.300 euro sempre stando alla ricostruzione fatta dai sostituti procuratori di Pescara d'accordo con Lorenzo Sospiri i due dirigenti della Soget avrebbero revocato i pignoramenti che avevano per oggetto diverse cartelle esattoriali relative a tributi e multe non pagate per un totale di oltre 10.000 euro le altre accuse ai vertici di Soget arrivano dall'analisi della risposta ufficiale data al sindaco di Pescara Marco Alessandrini a seguito di una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle Monaco avrebbe omesso di segnalare l'esistenza di procedure di riscossione a carico di Sospiri attestando falsamente la presenza di una istanza di rateizzazione mentre tra i fatti contestati a Mario Mazzocca quando era sindaco di Caramanico c'è la proroga del contratto alla Soget da parte della sua giunta per la riscossione delle tasse comunali sugli immobili secondo le risultanze delle indagini condotte dalla squadra mobile della Polizia di Pescara coordinata da Pierfrancesco Muriana e del Corpo Forestale dello Stato questo atto sarebbe una diretta controprestazione del favore fatto all'ex sindaco Mazzocca